mara veniere antonella clerici hanno litigato a domenica in la versione di mara per chi non lo sapesse o semplicemente non lo ricordasse mara veniere antonella clerici hanno avuto modo di lavorare insieme in passato quando mara infatti era ancora in rai le due avevano fatto insieme domenica in ora come è noto il modo in cui la veniere se ne è andata da quella che per anni è stata la sua rete non ha lasciato molto contenta l'opinionista dell'isola dei famosi ma quando ancora era domenica in quali erano i suoi rapporti con antonella clerici che c'era dell'astio tra le due è una cosa risaputa ma oggi sull'argomento torna a parlare mara mara veniere antonella clerici ai ferri corti a domenica in sui rapporti tra lei e antonella clerici parla adesso mara veniere che sotto un commento lasciato da un utente l'ex conduttrice di domenica in una per niente smentito l'ultima dichiarazione della clerici hai letto cosa dice antonella clerici sul numero di sorrisi e canzoni di questa settimana dice che per esperienza personale è meglio che le prime donne non lavorino insieme in tv scrive un fan alla veniere su instagram scusa ma ho letto una chiara allusione a te a quando avete fatto domenica in insieme aggiunge poi lo stesso sbaglio può darsi allora risposto mara non negando quindi questa eventualità domenica in sempre più giù con le sorelle parodi dopo il flop di ascolti mara veniere pronta a prendere il loro posto la decisione di affidare a benedetta parodi e cristina parodi la conduzione di domenica in non è rivelata un'idea vincente il flop di ascolti delle sorelle infatti ha spinto molti a chiedersi se non fosse arrivata l'ora di far tornare mara veniere in rai nulla di ufficiale però è stato ad oggi dichiarato al riguardo il possibile ritorno alla rai di mara veniere al momento rimane solo una voce di corrido